Silvia Marchionini ha raccolto le preoccupazioni espresse in questi giorni dagli utenti delle corse Battello e Interlavene e ha preso carta e penna per chiedere al direttore generale della struttura se vera la notizia della riduzione dei collegamenti a partire da domenica 10 aprile. L'orario invernale, scrive Marchionini, ne prevedeva 42 da Interlavene e viceversa. Il nuovo orario estivo ne prevede solo 33, escludendo i viaggi assicurati dal terzo traghetto negli orari di punta. Il sindaco verbanese pone l'accento sull'imminente arrivo della bella stagione, dunque sull'intensificazione del numero dei passeggeri e degli automezzi al seguito. Tutto questo comporterà l'allungamento dei tempi di attesa per chi deve salire sui traghetti. Le categorie più deboli, specifica ancora Marchionini, saranno gli abbonati, quindi pendolari, ambulanti, studenti che si spostano per lavoro studio. Mi rivolgo a lei perché gli utenti non riescono ad avere risposte dagli uffici della navigazione Lago Maggiore. Il sindaco verbanese sottolinea ancora che la riduzione delle corse sarebbe da imputare ad una mancanza di personale. Perché, dice Marchionini, non vengono banditi concorsi per suppliere chi è andato in pensione, così il personale imbarcato durante l'estate sarà dirottato sulle isole a scapito dei traghetti.